Buongiorno, oggi è venerdì 18 febbraio, ascoltiamo ancora un brano di Marco Otto. Se qualcuno vuol venire dietro di me, reneghi se stesso, prendo la sua croce e mi seguo. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Ci sono tante e troppe cose da dire su questo Vangelo, è uno dei più difficili, uno dei più ardi, uno dei più ostici. È una strada tutta in salita, ma dobbiamo leggerla così, credo. Nel momento in cui uno trova la cosa più bella del mondo, vale la pena buttarsi con tutte le sue energie, prendere la croce e spendere tutto quello che si ha, perdere la propria vita, sapendo che appunto questo grande sogno ci difenderà da tutto il resto, reneghi se stesso. Non è semplice, non è facile, ma l'augurio che ci possiamo fare a vicenda appunto è che il Signore sia così affascinante per noi, per la nostra umanità, per cui vale la pena davvero buttarsi totalmente nelle sue braccia. Buona giornata, fatti bravi, ciao.